La notizia del giorno è l'arrivo a Roma del presidente cinese con una delegazione di oltre 300 imprenditori. Molti non vedono di buon occhio questo avvicinamento Italia-Cina, anche l'Europa teme questo avvicinamento. Noi siamo una città di mare, il nostro porto è collegatissimo con i porti cinesi, noi abbiamo rapporti di grande amicizia con la comunità cinese napoletana, anche io personalmente ho rapporti istituzionali molto positivi con tanti esponenti della Cina, abbiamo anche dei rapporti strettissimi tra città, quindi tutto ciò che porta all'incontro tra i popoli, da ogni punto di vista, cultura, economia, commercio, ci vede favorevoli. Non ci vede favorevoli se si perde la visione di paese che si vuole avere, quindi si fanno solo operazioni magari propagandistiche o spot, né ci interessa inseguire modelli che sono altri. Con la Cina bisogna dialogare, bisogna avere scambi, bisogna avere confronti, bisogna fare incontrare i nostri popoli attraverso anche il turismo, ma poi ognuno deve avere la sua strada, deve avere la sua visione, sicuramente quello della strada della seta è un'opportunità, l'unica cosa mi piacerebbe sapere qual è la visione di paese che ha il nostro governo, perché questa cosa ancora non l'ho capita, perché un giorno fa la guerra con la Francia, un giorno fa la guerra ai poveri, un giorno fa la guerra a quell'altro, io sarei per costruire un'Europa forte che possa dialogare in modo forte, con un paese assai forte di cui ho anche un grande rispetto e fino anche una simpatia per la sua cultura millenaria che è la Cina.